Sono Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella, ma anche vicepresidente di Terra della Lana e coordinatore del tavolo della moda che organizza durante questo evento UNESCO Città di Biella una sfilata di moda al Teatro Odeon di Biella. Quindi è un invito quello che vi faccio di partecipare venerdì sera alle ore 21, l'invito è rivolto alla cittadinanza, i biellesi perché l'ingresso è gratuito. In questa occasione ci saranno tre bifilè importanti con tre firme internazionali, a partire da Gaetano Aloisio che è il presidente mondiale dei Sarti, che probabilmente avrete conosciuto durante la prima settimana di agosto quando il congresso mondiale dei Sarti ha fatto tappa nella città di Biella, Gaetano Aloisio appunto, e Prakash Parmar, uno dei migliori Sarti al mondo, un Sarto importante di Dubai, tra l'altro Dubai è anche città UNESCO per la creatività come la nostra città di Biella e poi una Sarta biellese, Angela Maltese, abbiamo trovato anche la rima. Questo è un momento della serata, ma tanti saranno i protagonisti di questo appuntamento, anche sportivi, con delle sorprese che è assolutamente in questo momento non possiamo, come dicono quelli bravi, spoilerare, quindi seguite News Biella che avrete le novità sicuramente prima dell'evento. Intanto vi aspettiamo venerdì sera al Teatro Odeon di Biella a partire dalle ore 21, venerdì 20. Grazie a tutti.